In studio con me vi voglio presentare il senatore Luca Pirondini del Movimento 5 Stelle. Benvenuto, sua prima volta, benvenuto nello studio. Gianni Todini, partiamo dalla politica di casa nostra però. Al centro del dibattito, lo anticipava anche il presidente Marsilio, c'è il PNRR, ci sono polemiche sui fondi, il ministro Fritto ha rassicurato, riferirà comunque in Parlamento e la premier Mieloni dice i fondi li spenderemo tutti. Allora, senatore, parto da lei perché voi vi siete detti comunque disponibili a collaborare con il governo. I tempi e i modi ci saranno tutti per ottenere questi fondi, dice la maggioranza. Stiamo aspettando comunque la terza rata entro la fine di questo mese. Quali sono però i rischi che voi vedete allo stato attuale? Beh, i rischi sono che si concretizzi questo caos che di fatto sta vivendo il governo sul tema dei soldi del PNRR. Noi consideriamo i 209 miliardi che Giuseppe Conte ha portato in Italia il più grande risultato italiano in sede europea della nostra storia. Abbiamo attraversato il governo dei migliori, ora siamo nel governo di quelli che dicevano di essere pronti, ma tanto pronti evidentemente non lo sono e mettono a rischio con il loro atteggiamento, il loro comportamento anche questi soldi. La terza rata, come ricordava lei, di fatto parliamo di 19 miliardi, è a rischio in questo momento, anche per tutta la tematica legata alla concorrenza e questo ci preoccupa perché con quei 209 miliardi noi possiamo ridisegnare il futuro del nostro paese, possiamo costruire nuove scuole, nuovi asili, fare quelle infrastrutture, anche quelle ferroviarie, ma non solo le strade di cui il nostro paese ha bisogno, andare incontro alla transizione ecologica. Mettere a rischio quelli vuol dire mettere a rischio il nostro futuro. Il vostro punto di caduta, diciamo, fino a dove siete disposti a collaborare? Guardi, noi crediamo che si debba spendere fino all'ultimo euro di questi soldi ed è per questo che ci mettiamo anche a disposizione per collaborare con la maggioranza, non come dicono alcuni partiti alla maggioranza, che i soldi che sono arrivati sono troppi perché francamente ci sembra una cosa inascoltabile, però chiediamo trasparenza e quindi chiediamo che il governo venga a riferire rispetto allo stato dell'arte, quindi come è la situazione attuale, quali sono i problemi. A fronte di questo il Movimento 5 Stelle si mette in modo responsabile a disposizione anche per poter collaborare perché, ripeto, l'obiettivo finale è che questi 209 miliardi, che non sono di Giuseppe Conte che ha portato in Italia, ma sono di tutti gli italiani, vengano spesi tutti fino all'ultimo euro per poter costruire un futuro migliore per il nostro paese. Dobbiamo, è un'occasione che non possiamo perdere. Senatore, ha questa percezione che in Europa ci sia la voglia di mettere un po' in difficoltà il nostro paese? Guardi, spesso il nostro paese si è messo e si mette in difficoltà da solo. Io cito soltanto un dato. Ad oggi in Italia soltanto il 6% dei soldi del PNR sono stati spesi. In Spagna siamo al 30%. E mentre qualche forza politica in questi giorni ha preso in considerazione addirittura il fatto di non prendere tutti i soldi che spetterebbero all'Italia, penso alla Lega, in Spagna chiedono 84 miliardi di euro in più sempre legati al PNRR. Allora evidentemente come si fanno le cose fa la differenza. Questo governo non le sta facendo bene, in altri paesi lo stanno facendo evidentemente meglio. Ma la colpa è sempre nostra, insomma, secondo lei? In questo momento di questo governo dal nostro punto di vista sì. Allora, giustizia e potere. Come vedete la situazione, senatore, voglio sapere anche da lei. E secondo lei ci saranno delle ripercussioni di quello che sta succedendo in America sulla nostra situazione, sulla nostra politica interna? O comunque in Europa? Questo è difficile dirlo, anche alla fonte del discorso del conflitto tra Russia e Ucraina, evidentemente, in cui gli Stati Uniti hanno evidentemente un ruolo sulla vicenda legata al Presidente Trump. Chiaramente non staremo a vedere quale sarà l'iter giudiziario. Sicuramente è interessante quello che diceva anche il signore che ben conosce Trump, che dal punto di vista della notorietà, Trump questa cosa sta giovando. Leggevo stamattina che ha ricevuto, mio padre, 7 milioni di finanziamenti in più, 7 milioni di dollari di finanziamenti in più, proprio dovuti alla visibilità data da questa imputazione. Sicuramente è una riflessione che si può fare. Allora, senatore, giustizia e potere nel nostro Paese, il rapporto? Beh, è un rapporto molto difficile, sicuramente, soprattutto negli ultimi 20-25 anni, direi. Abbiamo numerosi casi di situazioni in cui si sono mischiati questi due mondi che credo sia sempre meglio che rimangano separati il più possibile, ognuno nella propria competenza e nella propria indipendenza. garantito dalla nostra Costituzione.